Si chiama blueberry pie ed è un dolce tipico americano, una crostata ai mirtilli buonissima. Si inizia preparando una pasta frolla, unite farina, zucchero, scorza di limone, sale, burro di cocco, questo perché sto preparando un impasto vegano, ma potete mettere anche il burro normale, acqua e si impasta il tutto. Si divide in due e si procede come per una normale crostata. Lo sapevi che questo dolce è famosissimo nel New England? Così tanto da diventare il dolce ufficiale dello stato del Maine. Eh sì, perché nel Nord America c'è una maggiore produzione di mirtilli, infatti questa torta viene mangiata spesso in estate, quando i mirtilli raggiungono una maturazione perfetta. Quindi io non vedevo l'ora di prepararla in vista dell'estate, queste giornate di sole meravigliose. Così buona, semplice e genuina, in più potete sbizzarrirvi e decorarla come desiderate. Infornate a 180 gradi per 20-30 minuti circa e voilà. Prova a farla anche tu e seguimi per altre ricette.